Catanzaro è un'espressione proprio del calcio che piace a me. Io parlo di città, di tifoseria, di passione per questo sport e quindi da parte nostra c'è tanto tanto entusiasmo. Ci può dire che ho preso visione della squadra, ho conosciuto i ragazzi, abbiamo fatto già una chiacchierata con loro. È chiaro che adesso c'è tanto studio da fare da parte nostra perché dobbiamo capire nel più breve tempo possibile come sta la situazione perché per quest'anno tutto passa per la risoluzione di alcuni problemi perché si deve andare a migliorare di tanto questa squadra che già di tanto di buono fa ma chiaramente non basta per fare ancora meglio. Quindi da parte nostra tanto lavoro da fare e adesso ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di vedere il da fare. La scelta è stata Catanzaro anche in funzione dei tifosi perché per me il calcio è questo, nel senso che questo trasporto, questa passione per il calcio è la cosa più bella che esiste nel calcio. È chiaro che i tifosi in questo momento qua devono sapere, ma loro lo sanno, che è una squadra che in questo momento qua magari qualche problema ne ha. Ha delle cose positive ma ha anche sicuramente qualche problema. La concentrazione massima in questo momento qua da parte mia, da parte di tutti, secondo me deve essere rivolta alla squadra. Tutto ciò che si deve fare, lo si deve fare per cercare di dare una mano ai ragazzi che scendono in campo. Tutto ciò che si deve fare, lo si deve fare, lo si deve fare, lo si deve fare, lo si deve fare.